grazie grazie davvero per questa condizione perfetta della edizione più bella di sempre come tradizione grazie davvero a tutte e tutti voi grazie a Banca Etica per il sostegno che ci ha sempre dato in questi anni grazie soprattutto per l'impegno e la partecipazione che devono ancora arrivare che ci permetteranno di continuare a crescere, a scoprire nuove avventure provare nuove combinazioni, mettere sul piatto nuove energie, nuove soluzioni nuova passione, incontrarci fare arrivare gente nuova dall'idraulico ai geologi ai massaggiatori a qualunque altra persona che voglia partecipare di tutta l'energia che abbiamo generato in questi anni io vi voglio molto bene e so che anche voi ricambiate alla prossima ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti